Come già previsto proseguirà giovedì prossimo la seduta di consiglio comunale a Giarre che ieri ha visto l'approvazione delle convenzioni con l'Università degli Studi di Catania e con tre istituti superiori cittadini. Con l'Ateneo Catanese è stata rinnovata la partnership per i tirocini formativi degli studenti, mentre con le scuole superiori il comune apre all'alternanza scuola-lavoro. Inizialmente la proposta doveva riguardare solo i due licei gerresi, il Michele Amari e il Leonardo. Poi è stata integrata con un emendamento della Quarta Commissione che ha inserito anche l'Istituto Fermi Guttuso. Votazione unanime su entrambe le deliberazioni che permetteranno a diversi giovani di vivere un'esperienza formativa all'interno della pubblica amministrazione giarrese. Giovedì prossimo si proseguirà con diversi altri punti all'ordine del giorno, tra cui il voto sulla centrale unica di committenza, che sarà estesa a Santa Venerina e a Masquali, con il debito fuori bilancio della progettazione del centro incontro anziani di via Berlinguer e il controllo sugli equilibri di bilancio. In apertura di seduta, ieri pomeriggio, su richiesta del consigliere dell'Udc, Leo Patanè, è stato tenuto un minuto di silenzio per ricordare Alfio Di Maria e Nuccio Barbagallo, recentemente scomparsi. E' stato un minuto di silenzio per ricordare Alfio Di Maria e Nuccio Barbagallo.